Musica Michele Colamarino, Presidente della Polistica San Salvo tra giusto un mese, a questo ora è tutto finito sempre strano dirlo perché stiamo combattendo e lavorando ormai da quasi 8 mesi si si si, manca giusto un mese, oggi è 7 maggio quindi il 7 giugno ci sarà il grande evento si siamo in attesa di avere notizie dalla TDS per quanto riguarda gli iscritti però sono fiducioso, mi stanno telefonando da tutta Italia chiedono informazioni, questo mi riempie di gioia perché ci stanno chiamando anche dalla Valle d'Aosta, dalla Lombardia, dalla Sicilia, Sardegna quindi mi auguro quindi sarà veramente un campionato italiano a tutti gli effetti certo, un campionato italiano sicuramente non ho dubbi che ci sarà una grande affluenza di atleti stiamo lavorando, stiamo a buon punto, manca un mese e aspettiamo tantissime decisioni quindi tutto tranquillo, tutto più viaggio per il meglio diciamo che le preoccupazioni iniziali vanno un po' assoprendosi adesso ci si dovrebbe essere il rush finale per mettere in atto la cura dei dettagli per fare una bella figura quel giorno sì sì sì, siamo arrivati ai dettagli, veramente ai dettagli stiamo valutando ancora la partenza, se fare la doppia partenza, partenza unica ma sono piccoli dettagli, insieme ai giudici Fidel stiamo valutando questo ma questo sempre in base al numero di iscritti sono per il resto tutto a posto abbiamo, stiamo aspettando che arriva Vincenzo Livieri abbiamo il grande comico abruzzese Vincenzo Livieri che ci alliederà il sabato sera in uno spettacolo di tre ore quindi ci sono tutti i presupposti perché sarà una bellissima serata nel divertimento, nello sport, cultura, gastronomia, tutto 7 giugno abbiamo questo campionato italiano il sindaco di San Salvo, l'avvocato Tiziana Magnacca 8 mesi fa ti abbiamo dato quella notizia e sembravi un po' incredula oggi stiamo a un mese, ti sei resa conto di quello che dobbiamo fare, sì? no, non ero, sì ecco, ero incredula perché è un evento straordinario, eccezionale nella sua portata sportiva e non solo e quindi immaginavo che la città sarebbe stata molto impegnata su questo evento insieme chiaramente alla podistica, agli sponsor che partecipano alla realizzazione di questo momento di grande sport e quindi immaginavo un grande lavoro dietro quindi con tutte le variabili e le incognite del caso ma proprio perché era un evento importante devo dire che grazie alla vostra organizzazione che è sempre fatta di grande spirito di squadra di grande umanità, di grande capacità di raggiungere tutti assieme l'obiettivo devo dire che oggi questo evento si è quasi concretizzato e in tutte queste tappe che abbiamo percorso il sindaco era sempre presente ma non è che si nasconde dietro un interesse recondito per questa corsa ebbene sì, devo assolutamente ammetterlo lo sponsor mi ha lanciato una sfida ha lanciato il quanto di sfida e quindi cercheremo di essere all'altezza quindi devo dimostrare di avere la meglio su Gennaro Strever quindi questa è ufficialmente la sfida nella sfida quindi oltre alle varie gare, ai vari premi c'è anche un testa a testa beh speriamo di vincere, lo sono sai che figura bene allora, canottiera, scarpini e buon allenamento sindaco grazie e ancora buon lavoro a voi